Venedì 13 maggio, bello da qui. Nel corso di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, i militari dell'arma hanno accertato che la prima associazione riconducibile alla famiglia Nettuno, attiva a Marano e contigua al clan Polverino, era dedita allo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti acquistati in Spagna grazie alla mediazione di un latitante rifugiato nella penisola iberica e tratto in arresto dopo oltre tre anni di latitanza. La seconda associazione, attiva al vomero a Renella e sull'isola Dischia, era dedita allo spaccio di stupefacenti che nei mesi invernali venivano spacciati al vomero, mentre nei mesi estivi nelle aree di villeggiatura dell'isola verde. Violenza sessuale in un locale notturno nel centro su una turista americana, condannati due giovani casertali, il verdetto che è stato emesso dal gruppo Emma Uffieri del Tribunale di Torre è annunziata. Quattro anni e quattro mesi per il 22enne Francesco Franchini, tre anni e quattro mesi per il 20enne Riccardo Capece, come richiesto dal PM Mariangela Magariello. In aula hanno assistito all'udienza e alla lettura del dispositivo sia i due giovani imputati che la 25enne Genna, la vittima dello stupro, arrivata ieri da New York per presenziare al processo. Per lei anche il riconoscimento di una provvisionale da 10.000 euro da parte di Franchini, mentre per da Capece era già stata risarcita. La doppia violenza sessuale, la seconda di gruppo, si è consumata all'interno della toilette di un noto locale di Sorrento nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorsi. Nel corso degli intensificati servizi di prevenzione generale e controllo economico del territorio, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno denunciato un cittadino italiano che con un falso tesserino di riconoscimento e alcuni capi di abbigliamento simili a quelli in uso al corpo aveva truffato alcuni ignari cittadini. Le indagini condotte dalla compagnia di Nola prendono avvio da alcune segnalazioni pervenute da cittadini insospettiti dall'anomala richiesta di denaro fatta da un soggetto che qualificandosi come ispettore della Guardia di Finanza prospettava interessanti affari connessi all'acquisto di alcune autovetture in aste giudiziarie in cui il falso appartenente diceva di poter intervenire per modificarne favorevolmente le nuove lieve scossa di terremoto in campagna alle 8.26 di questa mattina a una profondità di 10 km la terra ha tremato in provincia di Caserta la magnitudo stando ai dati riportati sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di 2.4 ieri una scossa era stata registrata a Napoli sul Vesuvio i comuni interessati sono stati San Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Castello di Matese, Gioia Sannitica, San Gregorio Matese, Alife, Cusano Mutri e Faicchio usura ed estorsione chiesta la condanna a 7 anni di reclusione per lo zio del calciatore Ciro Immobile si tratta di Francesco Immobile, 72 anni, conosciuto a Torre Annunziata come Franco Presidente per i suoi trascorsi da patron del Savoia Calcio l'uomo sta affrontando il processo che lo vede come unico imputato per aver taglieggiato un imprenditore milanese e un avvocato di Torre Annunziata imponendo tassi usurari vicino al 120% annui a fronte di prestiti di diverse decine di migliaia di euro e il calciatore del Napoli, Allan, ha visitato il centro trapianti dell'ospedale Monaldi di Napoli portando un sorriso ai bambini assistiti dalla struttura e anche per dare coraggio e speranza non solo a loro ma anche agli operatori che li seguono il calciatore brasiliano era già stato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica e ha mantenuto la promessa di tornare e portare le magliette del Napoli un percorso di speranza, dice Daphne Palmieri, mamma di un ragazzo che ha avuto un trapianto che ci aiuta a ricordare il 29 maggio, giornata nazionale della donazione degli organi e dei tessuti l'associazione Donare e Vita organizzerà infatti una manifestazione per sensibilizzare la tematica ma anche per aiutare bambini, ragazzi e adulti che hanno avuto un trapianto e soprattutto tutti coloro in attesa di un trapianto la manifestazione si terrà presso la paramentina Soccer di Via Toscanella e vedrà coinvolti bambini e ragazzi trapiantati in una performance sportiva insieme con personaggi del mondo dello spettacolo con questa notizia è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News bello questo qua bello questo qua